Buonasera, ben ritrovati. Buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con Spazio Professioni. Dal 18 gennaio 2016 i liberi professionisti europei potranno utilizzare la tessera professionale europea per muoversi liberamente all'interno del mercato europeo. E' quanto annunciato il Vice Capo dell'Unità Libera Circolazione dei Professionisti della Direzione Generale del Mercato Interno della Commissione Europea, Costantino Stomaras, in occasione dell'Assemblea Generale e del Comitato Permanente del Consiglio Europeo delle Professioni Liberali, il CEPIS, che si è svolto lo scorso 5 giugno a Venezia sotto le gide di Confprofessioni e del quale abbiamo parlato la scorsa settimana. La Commissione Europea, ha aggiunto Tomaras, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli tecnici per l'attuazione della direttiva sulle qualifiche professionali, focalizzandosi in particolare su tre aspetti, i principi comuni di formazione, la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta. Sentiamo le sue parole sullo stato dei lavori sulla tessera in una breve intervista. Costantino Stomaras, a che punto siamo con la tessera professionale in Europa? La tessera professionale europea è un nuovo progetto. Speriamo di poter rilasciare la prima tessera nel gennaio del 2016. Attualmente la Commissione sta lavorando sulle misure di implementazione che sono necessarie per poter arrivare a attivare il progetto in tempo e stiamo anche lavorando a un network elettronico che permetta alla tessera di funzionare a livello europeo. Siamo in linea con i tempi previsti e quindi spero, come hai detto in precedenza, che potremo avere la prima tessera per il prossimo gennaio. Un centro di eccellenza sull'etica professionale unico in Europa e che avrà sede sull'isola di Malta. È uno dei progetti di punta del CEPRIS presentato a Venezia e che vede impegnati il governo maltese, l'Università Belga di Luvan, l'Università di Malta, il CEPRIS e l'MFPA, il Malta Federation of Professional Association. Il centro di eccellenza sull'etica professionale, che rientra nel programma Horizon 2020, si fonda su tre pilastri formazione, ricerca e sviluppo professionale. Le attività di formazione del futuro centro riguarderanno soprattutto singoli individui affiliati a istituzioni e università e interessati nell'acquisizione di conoscenze sulle questioni etiche riguardanti i professionisti e la loro applicazione nella pratica professionale quotidiana. Secondo il primo vicepresidente del CEPRIS, Gaetano Stella, l'etica professionale giocherà un ruolo determinante nel futuro delle professioni, perché a differenza dei codici deontologici e dei requisiti minimi leali richiesti per svolgere l'attività professionale, l'etica è una materia che tocca la coscienza del singolo professionista nel rapporto con il paziente, il cliente e il consumatore. Restiamo sull'incontro di Venezia perché in questa occasione il primo vicepresidente del CEPRIS, Gaetano Stella, ha presentato le possibilità per estendere le opportunità del programma Erasmus anche ai giovani che aspirano alla carriera professionale. Esistono già programmi di mobilità per giovani professionisti e lavoratori autonomi finanziati dalle istituzioni europee e nazionali, ma bisogna perseguire con decisione un programma Erasmus per i partecipanti alle professioni ordinistiche, ha sottolineato Stella. Pensiamo alla creazione di un circuito europeo di professionisti che consenta lo svolgimento di periodi di pratica professionale all'estero regolarmente riconosciuti nel paese d'origine e in cui il praticante acquisterà l'abilitazione professionale. Il progetto Erasmus per i praticanti professionisti ricalca quanto già previsto dalla Commissione dell'Unione Europea per favorire la mobilità dei giovani imprenditori in Europa. I professionisti di domani avranno la possibilità di acquisire nuove competenze nel paese ospitante e potranno contare sullo sviluppo di reti, relazioni e scambi che, una volta tornati nel loro paese d'origine, consentiranno di accedere a nuovi mercati e di sviluppare relazioni professionali all'interno del mercato europeo. E slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015 il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e da studio di settore. Lo prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Più tempo per pagare le imposte degli studi di settore e nuove regole per i ritardatari o per chi ha commesso errori per autocorreggere le proprie comunicazioni al fisco attraverso il ravvedimento operoso. Molte le novità dell'Agenzia delle Entrate è proprio a ridosso delle scadenze estive. Per quanto riguarda gli studi di settore, si prevede che slitti dal 16 giugno al 6 luglio il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, da quella IRAP e da quella unificata annuale per quei contribuenti che esercitano attività economiche. Questa novità è contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio, firmato dal Premier e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dal 7 luglio e fino al 20 agosto si applicherà una lieve maggiorazione a titolo di interesse, pari allo 0,40%. Il 1 luglio dovrebbe entrare in vigore il DURC Online. La digitalizzazione della richiesta del documento unico di regolarità contributiva dovrebbe divenire più veloce e semplice. Ma le preoccupazioni e i dubbi per possibili ineguatezze e difficoltà permangono. Criticità e possibili soluzioni sono state analizzate nell'incontro tra la Direzione Generale Entrate dell'Inps e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'incontro, afferma il Consigliere del Consiglio Nazionale Commercialisti, visto Vito Iacono, si è svolto in un clima molto positivo, con uno spirito di collaborazione e condivisione delle reali difficoltà riscontrate nell'avviare tale nuova procedura. Abbiamo analizzato casistiche scaturenti dalle diverse segnalazioni provenienti dai colleghi di tutta Italia. Al termine dell'incontro ci siamo assunti l'impegno reciproco ad evidenziare nei prossimi giorni tutte le problematiche che impediscono alla procedura online di essere di immediato utilizzo, in modo tale da organizzare per la fine del mese di giugno una videoconferenza presso le seri provinciali IMS collegate con la serie centrale dell'Istituto, a cui parteciperanno anche i commercialisti, in modo da illustrare puntualmente lo stato dei lavori, le problematiche e le soluzioni adottate. E la Corte dei Conti, nel rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica, ha affermato la necessità di una fase di crescita a livello macroeconomico per poter intervenire sulla pressione fiscale. Per ridurre la pressione fiscale sarà necessario un ambiente macroeconomico espansivo e non si possono sottovalutare le difficoltà di realizzare pienamente il programma di spending review. È quanto scrive la Corte dei Conti nel rapporto 2015 sulla finanza pubblica, sottolineando che un controllo duraturo sulla spesa può difficilmente prescindere da una riscrittura del patto sociale, che leghi i cittadini all'azione di governo e che abbia al centro una riorganizzazione del welfare. Sempre in materia fiscale, la magistratura contabile evidenzia che la quota delle entrate derivanti dalle amministrazioni locali sul totale della pubblica amministrazione è quasi raddoppiata tra il 1995 e il 2014, passando dall'11,4% al 21,9%. Un risultato, sottolinea, frutto di scelte operate a livello di governo centrale. La Corte calcola inoltre che il blocco della dinamica retributiva e la consistente flessione del numero di dipendenti pubblici hanno portato in quattro anni, dal 2011 al 2014, a una diminuzione complessiva della spesa di personale di circa il 5%, pari a 8,7 miliardi. Novità importanti per la banda larga nel DL Comunicazioni. Nella bozza del DL sono infatti previste misure per velocizzare la posa dei cavi per permettere agli operatori della comunicazione di sfruttare infrastrutture fisiche già esistenti di altre imprese. Non solo le reti di elettricità e gas, quelli di trasporto come ferrovie e autostrade, ma nella spinta del governo per lo sviluppo della banda ultralarga ora verranno coinvolte praticamente tutte le infrastrutture possibili, dagli aeroporti alle reti idriche, comprese fognature e sistemi di drenaggio. Non solo, la rete che trasporta dati alla velocità di 30 MB al secondo potrà passare anche per sistemi di teleriscaldamento, di pubblica illuminazione fino ai semafori. Le imprese che forniscono queste infrastrutture, si legge nella bozza del decreto Comunicazioni, dovranno concederne l'accesso agli operatori che ne facciano richiesta scritta. In ogni caso, l'autorità di settore dovrà dirimere eventuali controversie fra richiedente e concessionario dell'infrastruttura. Terna, al momento, si chiama però fuori. La rete è fuori dai centri urbani, mentre per la banda ultralarga il tema è l'accesso al consumatore finale e quindi la nostra infrastruttura non rientra nel perimetro, ha spiegato l'AD Matteo Delfante, ai cronisti che gli chiedevano se ci fossero stati dei contatti. Ma il progetto dell'esecutivo passa anche attraverso voucher da corrispondere all'utente finale, che attiva il servizio di banda ultralarga con il contributo che verrà rimborsato al fornitore dopo istanza al Ministero dello Sviluppo. E con questo è tutto per questa settimana, vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Reteconomy, la nuova visione dell'economia.